Un altro utente del gruppo ha chiesto questa domanda molto concisa che però secondo me interessa tutti gli uomini. Sicuramente a tanti sarà capitato perché alcune donne compaiono, ti trattano benissimo e poi scompaiono per poi ricomparire nuovamente. Una domanda molto generica che ha senso perché sicuramente a tutte le persone che hanno fatto qualche conoscenza online sarà capitato di aver conosciuto qualcuno, magari inizialmente anche ben disposta questa donna magari a conversare, tutto inizialmente rose e fiori, carine, picci picci, sì dai ci vediamo, poi ci incontriamo, poi bla 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 e poi a un certo punto spariscono e tante spariscono e basta per sempre e tante poi ricompaiono a un certo punto dopo un tot di tempo che può essere magari, che ne so, qualche settimana, a volte anche mesi. Allora, la spiegazione è duplice in realtà ma va per la maggiore la seguente, ovvero che voi non foste la sua prima scelta, che quindi stesse sentendo anche altri ovviamente come stava sentendo voi, oppure che magari avesse qualche relazione in piedi o che magari forse inizialmente stesse cercando magari una distrazione perché magari la sua relazione non stava andando bene e poi a un certo punto riprende ad andare bene e quindi vi molla lì e poi quando va male la relazione o l'incontro o la frequentazione con la persona che c'era, improvvisamente ricompare. Questa è l'ipotesi che va per la maggiore, per quale ragione? Perché è la più logica. Una donna inizialmente ti gratifica, ti cerca, ti scrive, ogni tanto lo fa principalmente a meno che tu non sia la sua prima scelta ma se ti scarta ovviamente non sei la prima scelta. Lo fa quindi principalmente per innanzitutto conoscerti e vedere un po', sondare il terreno, capire se puoi essere una persona idonea quindi non è necessariamente che siano cattive quando fanno questa cosa perché probabilmente per tante situazioni stanno anche cercando di conoscervi però non hanno tutto questo interesse smodato e quindi l'interazione c'è con dei dubbi, valutano, pensano, poi c'è qualcun altro poi magari anche non c'è nessuno ma semplicemente perdono l'interesse e poi magari o perché rivedono le vostre foto nella chat o da qualche parte o perché pensano ma forse in realtà Giovanni non era proprio così male forse non gli ho dato modo di conoscerlo a fondo a me è capitato anche di recente in realtà di un ragazzo che inizialmente avevo un po' snobbato con quel quale mi stavo scrivendo inizialmente l'avevo un po' snobbato e poi a un certo punto dopo un paio di settimane ho detto ma forse l'ho giudicato troppo in fretta magari in realtà poteva avere delle cose da dire magari potevo approfondire quindi gli ho riscritto, abbiamo chattato un altro po' poi in realtà l'intuito ci aveva visto giusto perché non eravamo compatibili su quello che stavamo cercando in quel momento però ecco questa può essere un'altra ragione la ragione che invece tante persone dicono ma forse era impegnata doveva lavorare aveva tante cose da fare forse le è successo qualcosa è possibile è possibile ma se c'è un reale interesse anche se la donna sta lavorando 20 ore al giorno anche se è finita in ospedale per qualcosa di grave e bla 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 comunque se c'è un interesse reale ti scrive e ti avvisa quanto meno ok? questo deve essere importante da capire perché se vi snobba a tutti gli effetti vuol dire che non c'è tutto questo interesse ok? se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale se non sei già iscritto clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo facebook vero uomo crescita personale e relazionale è un gruppo segreto puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy è un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale quindi trovi il link qui in descrizione insieme ai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo ciao grazie 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 grazie